E ora andremo giù, 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 nell'abisso! Scenderà in una gabbia a 37 metri di profondità per nuotare un di squali! Mi servirà una bombola d'ossigeno! E ora guardate l'affamato squalo di terra che esegue la sua abituale strage alimentare! Paglia grande, bello! Se l'hai bevuta completamente! Mia vuole... Pesciolino! Quella è mia? Certo che no! Quello è l'unico predatore dello squalo di terra! Il gigantesco! Il carnivoro! Pesce rosso! Pesciolino! E il gran finale! Pesciolina! Pesciolina! Questo visore è davvero eccezionale! Credo di aver fatto un disastro! Ha ragione papà! Il miglior squali 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 di tutti i tempi! E hai trovato la soluzione per i tuoi denti! Non ce l'avrei fatta senza di te, bello! Ora Sharkdog! Famiglia! Certo, amico! Buonanotte! Tutto normale! Ma qualcosa non mi convince qui dentro! Bastoncini di pesce!